Si preparino per salire sul podio Flaminia Pellittieri e Nessirin Zouaki, Extreme Fighters. Secondo posto Flaminia Pellittieri, prima classificata Nessirin Zouaki. Secondo posto Flaminia Pellittieri e Nessirin Zouaki. Secondo posto Flaminia Pellittieri e Nessirin Zouaki. Secondo posto Flaminia Pellittieri e Nessirin Zouaki Pellittieri e Nessirin Zouaki Pellittieri e Nessirin Zouaki. Secondo posto Flaminia Pellittieri e Nessirin Zouaki.